...eccetera, eccetera. Avanti, pussa via! Mi piange il cuore a vederli gialladri così piccoli. Che mi dici di questa tastiera, Ray? Ah, tu hai gli occhi buoni, amico mio. Questo strumento è il migliore di tutta Chicago. Quanto vuoi? 2000 verdoni ed è vostro. Ve lo portate a casa e vi do pure i tasti neri gratis. 2000 dollari per questo mucchio di merda. Andiamo, Ray! No, sul serio, Ray, è usata. Senti, non ha più grinta. Scusate, ma io credo che non ci sia niente che non va in questa tastiera. Scusate, ma io credo che non ci sia niente che non va in questa tastiera. Scusate, ma io credo che non ci sia niente che non va in questa tastiera. Scusate, ma io credo che non ci sia niente che non va in questa tastiera. Scusate, ma io credo che non ci sia niente che non va in questa tastiera. Scusate, ma io credo che non ci sia niente che non va in questa tastiera. Grazie a tutti Ok amico, allora li prendiamo tutti Eh già, e io devo accettare un cambialone al solito